Musica Adesso scatta l'extra time, dunque un minuto il cross sbagliato dentro di Marsella Prova a chiudere in attacco la squadra di Lucarelli, De Vito, impatto sbagliatissimo con il pallone Salezzonev, a sinistra c'è Dumbia, attenzione da profondità anche Catturano La palla è a destra, la conclusione, rete Persano, Lecce 2, Messina 0 Non sbaglia il giovane Persano questa volta, 2 a 0, un destro, non ha lasciato scampo a Berardi Prima rete stagionale per l'attaccante, rivediamo l'azione dentro l'area di rigore Questa volta ha trovato il gol, era solo e il destro ha fulminato Berardi Di collo esterno come possiamo riapprezzare dopo un ottimo primo controllo E con quella determinazione per calciare, per fare gol, usando anche la potenza, non solo la tecnica E in tutto questo Persano, dobbiamo dirlo, si è fatto perdonare per l'errore precedente Botta pesantissima per il Messina, praticamente con un piede negli spogliatoi le due squadre E' arrivato questo raddoppio della squadra Salentina, dunque 2 a 0 Grazie a tutti